Il vicepresidente della città di Ragusa, Angelo Paternò, assieme al direttore sportivo Massimiliano Vitale e al segretario Rosario Massari, hanno rassegnato le dimissioni dai rispettivi incarichi. Una decisione sofferta hanno dichiarato in coro, ma per certi versi inevitabile, perché sono stati davvero troppi, infatti, gli episodi che hanno condizionato in negativo la stagione appena trascorsa. Non parliamo, dicono, di episodi sportivi che possono starci, ma di altro, come ad esempio una mano nascosta cercata di penalizzarci più di quanto fosse legito. Per i tre dirigenti dimissionari, dunque, qualcosa non è andato per il verso giusto. Un accanimento, dicono, che società e squadra non meritavano. E si fa tra i tanti l'episodio della partita con l'Atletico Catania, che è pareggiata sul campo, si è poi tramontata nell'obbligo di una ripetizione dopo che l'arbitro, caso più unico che raro, vedendo le immagini in tv in serata, ha ammesso di aver commesso un errore tecnico, fornendo l'alibi al comitato regionale per procedere nel modo che tutti sanno. A questo si aggiunga la ripetizione del match disposto all'Aldo Gampo per la ventilata presenza di 850 tifosi ospiti. In realtà, di tifosi etnei ne arrivarono poi una quindicina e non si capisce perché il comune non abbia scelto di tutelare la società azzurra, insistendo perché il match si tenesse il suo logo naturale, cioè il biazzo.